Grazie a tutti Buongiorno E Gesù aggiunge che divorano le casse delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere Nello stesso tempo i suoi occhi scorgono un'altra scena Una povera vedova, proprio una di quelle sfruttate dai potenti Getta nel tesoro del Tempio tutto quanto aveva per vivere Così dice il Vangelo Getta nel tesoro tutto quello che aveva per vivere Il Vangelo ci mette davanti questo stridente contrasto I ricchi che danno il superfluo per farsi vedere E una povera donna che senza apparire offre tutto il poco che ha Due simboli di atteggiamenti umani Gesù guarda le due scene Ed è proprio questo verbo guardare Che riassume il suo insegnamento Da chi vive la fede con doppiezza come quegli escrivi Dobbiamo guardarci per non diventare come loro Mentre la vedova dobbiamo guardarla per prenderla come modello Soffermiamoci su questo Guardarsi dagli ipocriti E guardare alla povera vedova Anzitutto guardarsi dagli ipocriti Cioè stare attenti a non basare la vita sul culto dell'apparenza Dell'esteriorità Sulla cura esagerata della propria immagine E soprattutto stare attenti a non piegare la fede ai nostri interessi Quegli scrivi coprivano con il nome di Dio la propria vanagloria E ancora peggio Usavano la religione per curare i loro affari Abussando della loro autorità e sfruttando i poveri Anche qui vediamo Che è quell'atteggiamento così brutto Che anche oggi vediamo In tanti posti In tanti luoghi Il clericalismo Questo è essere sopra Gli umili Sfrutarli Bastonarli Ma sentirsi perfetti Questo è il male del clericalismo E' un monito per ogni tempo E per tutti Chiesa e società Mai approfittare Del proprio ruolo Per schiacciare gli altri Mai guadagnare sulla pelle dei più deboli E vigilare Per non cadere nella vanità Perché non ci succeda Difisarci sulle apparenze Perdendo la sostanza E vivendo nella superficialità Chiediamoci Ci aiuterà In quello che diciamo e facciamo Desideriamo essere appressati E gratificati Oppure rendere un servizio a Dio E al prossimo Specialmente ai più deboli Vigiliamo sulla falsità del cuore Sull'epocrisia Che è una pericolosa malattia dell'anima E un pensare doppio Un giudicare doppio Come la stessa parola lo dice Giudicare sotto Apparire in un modo E chi può sotto Avere un altro pensiero Doppe Gente Con l'anima doppia Doppezza dell'anima E per guarire Da questa malattia Gesù ci invita A guardare Alla povera veda Il Signore Il Signore denuncia Lo sfruttamento Versa questa donna Che per fare l'offerta Deve tornare a casa Priva persino Del poco che ha per vivere Quanto è importante Liberare il sacro Dai legami con il denaro Già Gesù lo aveva detto In altri posti Non si può servire due signori O tu servi Dio E noi pensiamo che direbbe O il diavolo No O Dio O il denaro È un Signore E Gesù dice Non dobbiamo servirlo Ma allo stesso tempo Gesù loda Il fatto Che questa vedova Getta nel tesoro Tutto ciò che ha Non ne rimane niente Ma trova in Dio Il suo tutto Non teme di perdere Il poco che ha Perché ha fiducia Nel tanto di Dio Non teme perdere il poco Perché ha fiducia Nel tanto E questo tanto di Dio Moltiplica La gioia di chi donna Anche questo Ci fa pensare All'altra vedova Quella del profeta Elia Che stava Per fare una focaccia Con l'ultimo di farina Che aveva E l'ultimo di olio Elia gli disse Dammi da mangiare E lei dà E la farina Non diminuirà mai Un miracolo Il Signore È sempre Davanti alla generosità Della gente Lui va oltre È più generoso Ma è Lui Non L'avarizia nostra Ecco allora Che Gesù La propone Come maestra di fede A questa Signora Lei non frequenta Il Templo Per mettersi La conscienza a posto Non prega Per farsi vedere Non ostenta La fede Ma dona Con il cuore Con generosità E gratuità Le sue monetine Hanno un suono Più bello Delle grandi offerte Dei ricchi Perché esprimono Una vita Dedita a Dio Con sincerità Una fede Che non vive Di apparenze Ma di fiducia Incondizionata Impariamo da lei Una fede Senza orpelli Esteriori Ma interiormente Sincera Una fede Fatta Di amore Umile Per Dio E per i fratelli E ora Ci rivolgiamo Alla Vergine Maria Che con cuore Umile E trasparente Ha fatto Di tutta la sua vita Un dono Per Dio E per il suo popolo Angelus Domini Inunciabit Maria Et concepiti De Spirito Santo Ave Maria Grazia plena Dominus Tecum Benedicta Tuimulieribus Et benedicto Fruttu Pente Tu Iesu Sancta Maria Mater Dei Ora Pronobis Peccatoribus Nunc Et in hora Mortis Nostre Amen Ece Ancilla Domini Ave Maria Grazia plena Dominus Tecum Benedicta Tuimulieribus Et benedicto Fruttu Pente Tu Iesu Sancta Maria Mater Dei Ora Pronobis Peccatoribus Nunc Et in hora Mortis Nostre Amen Eberbun Caro Fac Nostre Et Abitavit In nobis Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuimulieribus Et benedicto Fruttu Pente Tu Iesu Sancta Maria Mater Dei Ora Pronobis Peccatoribus Nunc Et in hora Mortis Nostre Amen Ora Pronobis Santa Dei Genitris Utdini Efficiamur Promissionibus Christi Grazie AnTu AnQuestum Domine Mente Bus Nostris Infunde Chi Angelo Annunziante Christi Fili Tu Incarnazione Cognovimus Per Passione Meios Ad Crucem A Rassurresione Gloriam Perducamur Per Christum Dominum Nostrum Amen Gloria Patria Filius Spiritus Santo Sicut Eretti Principio Et Nunc Et Semper Et In Secola Secularum Amen Gloria Patria Figlio Et Spiritus Santo Sicut Eretti Principio Et Nunc Et Semper Et In Secola Secularum Amen Gloria Patria Et Figlio Et Spiritus Santo Rejecant Amen Amen Sirt Nomen Domini Benediktum Exoc Nunc Etus Quen Seculum Aiuterium Nostrum In Nomine Domine Viteci Di Cielo Met Terra Amen Benediktum Che Giungono Dalla Regione Del Corno D'Africa In Particolare Della Etiopia Scossa Da Un Conflitto Che Si Protrae Da Più Di Un Anno E Che Ha Causato Numerose Vittime E Una Grave Crise Umanitaria Invito Tutti Alla Preghiera Per Quelle Popolazioni Così Duramente Provate E Rinnovo Il Mio Appello Affinché Prevalgano La Concordia Fraterna E La Via Pacifica Del Dialogo Assicuro La Mia Preghiera Anche Per Le Vittime Dell' Incendio Seguito Un' Esplosione Di Carburante Nella Periferia Di Freytown Capitale Della Serra Leona Ieri A Manresa In Spagna Sono Stati Proclamati Beati Tre Martiri Della Fede Appartenenti All'Ordine Dei Frati Menori Capucini Benet De Santa Coloma De Gramenet Josep Oriol De Barcellona E Domenet De Saint Pierre De Ruiz Vils Furono Uccisi Nel Periodo De La Persecuzione Religiosa Del Secolo Scorso In Spagna Dimostrando Di Essere Mitti E Coraggiosi Testimoni Di Cristo Il Loro Esempio Aiuti I Cristiani Di Oggi A Rimanere Fedeli Alla Propria Vocazione Anche Nei Momenti Di Prova Un Applauso Ai Nuovi Beati Salute Tutti Voi Cari Fedeli Di Roma E Pellegrini Di Vari Paesi Particolare Quelli Venuti Dagli Stati Uniti Di America Del Portogallo Saluto I Gruppi Di Fideli Di Prato E Di Foligno E I Ragazzi Della Professione Di Fede Di Bresso A Tutti Auguro Una Buona Domenica E Per Favore Non Dimenticatevi Di Pregare Per Me Buon Pranzo E Arrivederci pesong Diminate Pregare Pic date 이�et Pregare Pregare